Viviamo il singolo istante, attimo senza interruzione, diveniamo quel sentimento che si sprigiona nei momenti più isolati, surreali, istanti di resistenza quotidiana nei quali superiamo paure, desideri. Tutto è contenuto nel tepore di noi stessi, in quella regione nascosta, ricercando l'immenso desiderio della comprensione negli sguardi altrui, nella voragine che ci avvolge, in un calore senza tregua. Grazie. 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 Grazie.